No regà, non ce posso credere, non ce posso credere, ancora Livanovic, ancora Livanovic decisivo eroe, la Croazia butta fuori il Brasile, i favoriti del mondiale ragazzi, il Brasile, la Selesau se ne torna a casa ragazzi, clamoroso perché qui errore grosso del Brasile che non è riuscito a gestire la vittoria, il vantaggio nei tempi supplementari, la Croazia con un tiro nello specchio vince e butta fuori il Brasile ai calci di rigore, ancora una volta eroe, Livanovic, ciao ragazzi e bentorni in questo video, qui è Giapiozz oggi, siamo di nuovo qui ragazzi in un nuovo video, siamo appunto qui in Giapiozz commenti, commenti nel passparti di Croazia, Brasile finisce 5-3 dopo i calci di rigore, perché Livanovic, perché il Brasile sbaglia due rigori, uno Rodrigo che lo para Livanovic e poi il rigore decisivo che viene sbagliato da Marchinhos che prende il palla, io mi domando una cosa, ma c'hai un rigorista come Neymar e non gli fai battere il calcio di rigore, lo fai battere a Marchinhos, con tutto rispetto, con tutto rispetto per Marchinhos ma non è un rigorista, non l'è mai stato, cioè con tutto rispetto, secondo me qui è il grosso errore della scelta dei rigori, perché comunque c'è gente più preparata per i rigori e fanno tirare gente impreparata, perché comunque secondo me doveva tirare Neymar subito, nei primi tre c'è doveva stare Neymar, io avrei fatto tirare di tutta per primo Neymar, invece tira Rodrigo e para Livanovic, poi ora ve ne parlo dei singoli, Ciao ragazzi e bentornati in questo video, qui già siamo qui nel post partita allo stadio Education City Stadium, la Croazia che vince 5-3 dopo i calci di rigore, prima di tutto ciò un mi piace e un commento, dite la vostra che cosa ne pensate dell'eliminazione del Brasile, della squadra verde-oro che viene buttata fuori la Selesao da una Croazia che è veramente decisiva sul dischetto, ha buttato fuori il Giappone e poi butta fuori anche il Brasile sempre dal dischetto, qui sotto seguitemi in descrizione su tutti i miei social, Instagram, Instagram, TikTok, qua sopra vi lascio gli ultimi video che andate a recuperare, vi aspetto questa sera alle ore 20 per seguire live la partita di Argentina-Olanda, vi aspetto tutti quanti in live per supportare la Selezione Argentina, e ovviamente vi ricordo di iscrivervi, insomma che è gratis, e attivate la campana per rimanere già tutta la settimana, comunque la partita molto noiosa posso dire, una partita molto noiosa perché però il Brasile meritava il vantaggio per quello che aveva creato, meritava il vantaggio molto molto prima perché ha fatto 21 tiri totali, 11 in porta, l'Ivano ci è stato decisivo su tante occasioni, male di Charleston, veramente male oggi, stasera non c'è stata storia, male anche Vinicius, l'unico che secondo me è stato il trascinatore di questa partita del Brasile è stato Neymar, ma purtroppo non è bastato perché la Croazia ha puntato più sul gruppo, sulla squadra, è una squadra rognosa da affrontare, con Gavardiol in difesa, ragazzi che ha un muro praticamente, ne sentiremo parlare tra qualche anno secondo me, dopo il Mondiale potrebbe trasferirsi in una big quest'estate, secondo me, così come Livanovic potrebbe trasferirsi in una big, ne sentiremo riparlare di questi due giocatori, comunque il Brasile che viene buttato fuori i calci di rigore, vi racconto un po' la storia perché il Brasile passa in vantaggio nei tempi supplementari, perché la partita finisce 0-0, vanno i supplementari al 106 segna Neymar su assist di Paquetà, gran gol, ma lì è stato bello la giocata che ha fatto, diciamo il passaggio ha fatto Paquetà e la giocata di Neymar e il gol dell'1-0, vantaggio del Brasile, poi al 117 ragazzi, al 117 la pareggia Pektovic, lì secondo me è stato l'errore, secondo me è un po' del Brasile, è arrivato questo tiro in cui, diciamo che Alisson non ce poteva fare chissà che cosa, lì l'errore secondo me è stato del Brasile perché non è riuscito a gestire il vantaggio, perché a quel punto quando passi in vantaggio nel primo tempo supplementare, nel secondo, devi giocare tutto giusto in difesa, invece così non è stato, e Brasile prende il gol che poi lo porta ai calci di rigore, assist di Orsic, dal dischetto si presenta ancora una volta Vlasic e segna, poi si presenta Rodrigo da parte del Brasile e Livanovic intuisce, rigore non calciato non benissimo, lo para Livanovic, poi va di nuovo sul dischetto, in questo caso Meyer e spiazza ancora Alisson, quindi due spiazzato Alisson, poi si presenta dal dischetto Casemiro e segna il gol, quindi 2-1, 3-2 per la Croazia, poi va dal dischetto Modric e segna il gol del 4-2, poi va dal dischetto Pedro Ghimárez e segna il gol del 4-3, dal dischetto Orsic questa volta intuisce Alisson ma non ci arriva, e quindi 5-3 per la Germania e sì per la Croazia, 5-3 per la Croazia, poi va sul dischetto Marquinhos ragazzi e prende il palo, il palo clamoroso come non abbia tirato Neymar nei primi 4, è clamorosa la cosa, secondo me questo è un errore di Tite nella preparazione dei rigori che è stato impreparato perché Neymar deve tirare, almeno nei primi 3 ci deve stare Neymar per forza, non c'è stato, lui è il rigorista number one del Brasile, non so lo vuole tenere come quinto, ha sbagliato secondo me perché quando fai tirare a Marquinhos i calci dei rigori nei primi 5 vuol dire che qualcosa non va, giustamente la Croazia con sudore e sacrificio porta questa vittoria a casa e se ne vola in semifinale, ancora una volta due anni consecutivi che la Croazia in semifinale dei mondiali, clamoroso, Livano vince eroe, la Sele Sao, i favoriti vengono buttati fuori e se ne tornano a casa. Niente ragazzi, a qui è tutto, fatemi sapere la vostra, lasciate un mi piace se non siete iscritti, iscrivetevi, vi aspetto dopo per la live reaction e il post partita dell'Argentina, ci vediamo dopo, sempre e comunque forse il calcio e mamma mia, che sorprese questo mondiale, questo è il mondiale delle sorprese, ciao ragazzi, vamos, ciao.